Ciao a tutti, io sono Kree e bentornati su War Robots. Sono tornato dalle vacanze e questo è il primo video che sto registrando. Come vedete ho fatto un bel po' di progressi, ho approfittato appunto di questo periodo per portarmi avanti e ho fatto qualche modifica al mio team. Andiamole un po' a vedere. La prima nuova aggiunta che ho messo nel mio team è lo Skyros. È un robot che dovreste già conoscere visto che è stato il protagonista di molti dei miei video passati durante le schermaglie. La build è quella classica, Mace, Hammer e Coolgel, delle armi che fanno tanto danno dalla breve distanza e che possono far saltare per aria gli avversari infliggendoli ulteriori danni. Purtroppo non ho ancora il pilota e il robot è ancora a livello 5, sia lui che le sue armi, però è molto buono per catturare i beacon. La seconda principale modifica che ho fatto è mettere il Siden nel team. Allora, a dire la verità sto giocando ancora parecchio Arfi, anche se penso di aver capito il perché nelle leghe più alte viene giocato più Siden che Arfi. E il motivo sta nel drone con cui è equipaggiato questo robot. Siden, se lo mettete insieme a un drone che applica l'effetto di Lockdown sugli avversari, mettendo anche il congelamento con la sua abilità fa tantissimi danni. Diventa un robot davvero parecchio pericoloso. Se invece non avete un buon drone con Lockdown, allora forse è meglio giocare un Arfi. Io un chip con Lockdown l'ho preso di recente, anche se con le armi livello 7 non faccio ancora tantissimo danno, quindi spesso gioco ancora Arfi. Per quanto riguarda invece gli altri robot, ho solo fatto qualche modifica minore. Gli ho migliorati un po' di livello, sia loro che le loro armi, ad alcuni ho cambiato magari i piloti, i moduli, queste cose qua. Niente di che diciamo. Comunque, andiamoli a provare. Allora, alcuni di voi mi hanno detto di provare a fare deathmatch a squadre, però abbiate pazienza, io per provare lo Skyros, per questa volta, devo fare dominazione. Non mi vogliate male, però lo Skyros è un beacon rusher. Eccoci qua, mappa Moon. Quindi abbiamo anche un po' di coperture. Non ho ancora un drone adatto per lo Skyros. Per il momento mi arrangio un pochettino. Però, nonostante non ho un drone, lo Skyros è un robot davvero molto resistente. Sbaglio o sono entrato in una partita che era già iniziata da qualche secondo? Eh, che bello, eh? Potrei andare a dare supporto ai miei compagni. Io, quando sto nella forma palla, ho il danno di dotto dell'85%. Praticamente non mi tirano mai giù. Io sto così, lui mi spara. Sì, mi fa qualche dannetto, ma... E se andasse a catturare questo raggio? L'altro è troppo lontano, non può arrivarci. Eh, no, non fa in tempo. Mi dispiace. Forma palla. E lui un danno se l'è preso, però, eh? Approfittiamone adesso che non ci sono i suoi compagni. Avevo le armi scariche. Eh, si vede che non ci ho ancora fatto l'abitudine, eh? Però, comunque... Me la cavicchio. Anche grazie al modulo che gli ho messo. Ah, un Revenant. Male. Con le armi livello 5, manco di danno. Non ci posso fare nulla. Però, spesso e volentieri, posso semplicemente camperare sul raggio luminoso. Tenerlo, mentre i miei compagni fanno le kill. E gli avversari attaccano me. Detto questo, Siren in campo. Iniziamo bene. Double kill, subito, così. Non avete ancora visto la potenzialità del Siren. Ecco, lui però mi piace di meno. Dovremmo resistere... Di qua. Se qualcuno viene ad aiutarmi... A me fa anche piacere. Adesso li metto lockdown. Buono. Peccato che... Ci hanno preso anche loro. Siamai, posso già curarmi. Però il danno me l'hanno fatto, eh. È stato sveglio quel Revenant. E ce n'è un altro? Com'è che tutti gli avversari sono qua in base nostra? C'è qualcuno dei nostri che ha quittato, mi sa. Perché siamo in quattro dopo tre minuti di partita. Eh, vabbè. La prima è andata male. Però, d'altra parte, quattro contro sei... Stavo dicendo, ci sono un pochettino troppi avversari nella nostra base. Siren, che è un robot che, in genere, è molto fragile quando sta a terra. E ottiene una grande riduzione dei danni mentre vola. Fatica se non ha le difese dei nostri compagni. Infatti, gli ultimi due hanno quittato. Si vede dai danni. Non si sa il perché. Noi non abbiamo fatto un punteggio terribile. Siamo arrivati secondi. Teoricamente, essendo arrivati secondi nel nostro team, nonostante la partita è persa, non dovremmo aver perso i trofei. Quindi, va bene così. Cerchiamo un'altra partita. Seconda partita trovata. Adesso, iniziamo di Strider. Lo Strider, a di età, è abbastanza simile a come l'avevate visto nell'ultimo episodio. L'ho aumentato di livello, quindi è un pochettino più veloce. Anche se gli ho tolto Control Resistor e si vede. Mi hanno appena loccato. Gli ho tolto Control Resistor. A di età, è una prova che sto facendo proprio adesso. E gli ho messo un Chip Freezer per magari aumentare un pochettino i danni che fa. Purtroppo io non ho il modulo Anti-Control, che secondo me sarebbe molto buono su questo robot. Però il fatto è che con Spark e Calamity livello 7 faccio davvero pochi danni. Poi devo aspettare che mi locca anche i robot avversari. Diventa complicato. Infatti sto cercando di cambiare la build. Vediamo un po'. L'ideale sarebbe riuscire a fare una build con Devastator e Scatter. Qui siamo morti. Con Devastator e Scatter avremmo fatto un bel po' più di danno. Comunque. Ecco qua il nostro Siren. Quei moduli sul Siren ci ho messo una Clock Unit. E... Un Override Unit. Una mi serve per proteggermi un pochettino. Sapete, essendo che non ho nessuna stand, un po' di protezione sul Siren, che è un robot appunto fragile, male non fa. E... L'altra invece serve per aumentare i danni una volta che scendo sotto il 50% di vita. Sono due moduli davvero buoni per il Siren. In mancanza di meglio, aiutano parecchio. Inoltre, con il chip Lockdowner posso lockare i miei avversari. Però devo ricaricarmi un pochettino, perché sennò non ci riesco. Vediamo un po'. Facciamo un po' di casino. Qualcosa si riuscirà a fare. Su di lui mi sa che non riesco a fare tanto. Vabbè. Ferrir è sempre molto bulky. Però il danno non è terribile. Soltanto a me capita, quando ho lo Skyros in campo, che tre avversari contemporaneamente mi attaccano. A lui non capita. Via. Diamo anche lui. No. Lo prende il mio compagno. Va bene così. Sono anche salito un bel po' di lega, quindi gli avversari sono molto più forti. Infatti, a dire realtà, sto faticando un po'. Dovrei migliorare sia i robot che le armi di livello. Però col fatto che sono stato occupato a fare modifiche al team, a migliorare lo Skyros e tutto, non ce l'ho ancora fatta. Sapete, essere in lega diamante 1 e trovarsi con nessun robot MK2. Peccato. Si è teletrasportato. Lui sta lì? Io lo locco, eh. Si, è vero che si può teletrasportare, però... Da comunque fastidio. Ecco, lui non mi piace. Ah, sono stato sbalzato via. E non nemmeno ho preso la kill. Probabilmente è stato uno shell. Vabbè. A volte capita di fare questi voli con... questi robot. Anzi, era da un po' che non mi capitava. Riusciamo a farlo fuori, lui? Buono. Vediamo un po'. Partita molto combattuta. Se magari lui ci protegge un po', no, non ci protegge. Proprio non gli interessa. 30 di vita. Bene. Se qualcuno ci tocca, siamo morti. Bellissimo il Muromex che campera al centro mappa. Mi fa davvero ridere. Oh, siamo sopravvissuti, eh. Per poco. Io davvero non capisco i giocatori che prendono il volo con i loro robot e si mettono là sopra sul tetto al centro mappa. Come se fosse un posto sicuro per proteggere i loro robot. Cioè, tipo, chiunque può colpirevi da qualsiasi punto della mappa. Io gioco sia Arfi che Siren e non lo faccio. Devo avvicinarmi un po'. Eh, l'ha preso il mio compagno, va bene lo stesso. Riesco a far fuori lui? Lui non scappa. Sta lì? Bene, colpito. Adesso lui vola ancora. Non so se sopravviviamo a questo volo. Sì, al suo volo ci sopravviviamo, però c'è il compagno. C'è il compagno. Dai, fuori uno. Vediamo di far più danno possibile a questi robot. Oh, ho saltato nella direzione sbagliata. Un dannetto. Va bene così. Skyros! Proviamo ad andare a prendere l'ultimo raggio luminoso. O comunque a camperare. Skyros, nella sua forma palla, insieme a Kura. È dura da tirare giù, eh? Oh, io si teletrasporta. Gentilissimo. Io riprendo il raggio. Beh, danni, eh? In quanti mi stanno attaccando. Sì, io stessi qua. Dai! Buono. Ho avuto paura di non farcela. Eh, io vorrei andare a prendere qua il raggio, ma se lascio qua... Viene l'altro. Visto? Riesco a spingerlo di qua? Dai, vai dai miei compagni, vai dai miei compagni. Bravo. Eh, non c'è nessuno, però. No, non ce la faccio resistere. Siamo quasi tutti morti. Dai, almeno doppio Capri. Cerchiamo di resistere per l'ultimo minuto. Ecco, il Capri, per esempio, l'ho semplicemente migliorato di livello e ho migliorato il pilota. Non ho fatto nient'altro. Diciamo un bonus in danni. Eh, questa partita abbiamo sofferto un pochettino. Buoni danni che abbiamo fatto e abbiamo catturato tre raggi luminosi. Sia mai, non è che abbiamo fatto un punteggio terribile. Mi pare che siamo un pochettino tutti lì lì. Quello davanti a me ha fatto un bel po' di danni in meno, però ha catturato due raggi luminosi in più. Il fatto è che io, prima di avere il chip lockdowner su Siren, avevo un chip freezer che mi aiutava a congelare gli avversari più velocemente. Adesso che ho tolto quel chip là, ci vuole un pochettino più di tempo a congelare gli avversari e quindi faccio meno danno. C'è un drone che permette di fare entrambe le cose, sia paralizzare che congelare. Il problema è che non è disponibile ai free to player, per il momento. Si spera che un giorno lo aggiungeranno allo shop. Comunque, io vi dico che per questo video è tutto. Mi dispiace che la prima partita sia durata un po' poco, però, che dire, capita. A volte possono capitare problemi di connessione, a volte ci sono persone che quittano a caso. Va a saperlo. Se questo video vi è piaciuto, lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi sia su Twitter che su Facebook, trovate il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto. Ciao! Ciao!